E tutto è possibile, perché se noi confidiamo veramente la fede piena nel Signore, allora la nostra vita si riempie della gioia, della fede, quello che dobbiamo testimoniare, e nemmeno la paura può abbiare nel nostro cuore, perché la paura non esiste per il cristiano che ha la fede, perché il cristiano vive nella fede con la certezza che abbiamo un Papà in cielo, quello che si prende tanta cura di noi, e come ci ha detto qualche domenica fa, quando un Papà buono sa dare cose buone figlie, quanto più ce le darà il Papà del cielo, e allora confidare sempre nella sua infinita misericordia, ma è sforzarci a vivere la gioia della fede, e non avere paura dell'incontro con Lui, perché è un incontro che lo facciamo ogni giorno, che partecipa ogni giorno all'Eucarestia, ogni giorno incontrando i nostri fratelli nell'amore, e un giorno incontreremo il Signore per godere tanti nostri cari che ci hanno preceduto, San Pio, Santa Chiara, tanti santi nostri protettori che dal cielo ci sostengono, un giorno ci aspettano lì in cielo per godere per l'eternità la felicità che il Signore ci ha preparato, e quello deve essere il nostro desiderio, dove il tuo tesoro lì è il tuo cuore, e il nostro tesoro è raggiungere quella meta, perché il Signore ci ha creato, come ci hanno insegnato nel Catechismo, per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita, e poi goderlo in Paradiso. Sialo adatto Gesù Cristo! Sialo adatto Gesù Cristo!